L'esercito francese intensifica l'operazione in Mali contro i ribelli giadisti del nord. L'aviazione ha colpito la scorsa notte la città di Diabali, 400 chilometri a nord di Bamako, conquistata lunedì dai gruppi islamici, almeno 5 miliziani rimasti uccisi. Il presidente francese François Hollande parla di primo obiettivo raggiunto e annuncia che Parigi invierà in Mali fino a 2.500 uomini, attualmente sono 750 i soldati in missione. Confidiamo di poter fermare gli aggressori, i nemici e i terroristi in tempi rapidi. Successivamente il dispiegamento delle truppe africane, in almeno una settimana, consentirà di ripristinare l'integrità territoriale del Mali. Gli islamisti avevano tentato una controffensiva nell'ovest del paese, ma dopo il raid aereo sono fuggiti da Diabali, come riportano alcuni testimoni. L'iniziativa francese è al sostegno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e gli Stati Uniti hanno garantito un appoggio logistico. In Mali è allerta sfollati. Secondo le Nazioni Unite, il conflitto ha costretto quasi 150.000 persone a lasciare il paese, mentre altre 230.000 hanno abbandonato le loro case.